L'1-2 ci ha steso completamente, sia da un punto di vista emotivo, da un punto di vista psicologico, perché la squadra è andata sicuramente nel pallone e poi ha concesso facilmente delle occasioni, depressioni, commettendo errori anche clamorosi che sono giustificati solo da un momento di ansia, di panico, perché alla fine puoi giustificarlo solo in questa maniera. Sono quelle situazioni in cui tutto sembra che ti cada addosso e non riesci più ad essere lucido. Abbiamo preparato la gara, ognuno proprio meglio, perché io con i giocatori durante la settimana abbiamo lavorato in modo da poter fare la migliore prestazione possibile. Purtroppo, ripeto, oggi tutto quello che avevamo preparato è stato vanificato da una giornata assolutamente da dimenticare e alla quale occorre provvedere subito con la prossima prestazione. Grazie.